Ciao, mi chiamo Veronica Pacella e sono una nutrizionista e life coach. C'è stato un momento della mia vita in cui ho capito di essere stanca. Stanca di sentirmi impotente di fronte alle situazioni. Ero stanca delle mie paure, delle mie incertezze e anche dei miei sensi di colpa perché non riuscivo a cambiare le cose. Ero stanca di non essere felice. Ho scritto questo libro perché c'è stata una sensazione dentro di me che mi ha spinta ad andare oltre i miei dubbi e le mie paure. Una sensazione che mi rassicurava che nella vita c'è molto altro e c'è perché comincia da noi. Comincia scoprendo la nostra unicità e le nostre risorse interiori. Ognuno di noi è prezioso, ognuno di noi può realizzarsi ed essere felice nel momento in cui esprime ciò che lo rende unico. È un viaggio all'interno di noi stessi, è un viaggio che ci permette di scoprire chi siamo autenticamente, i nostri talenti, le nostre potenzialità, le nostre risorse interiori ed è un viaggio per renderci protagonisti di un cambiamento positivo. Ho scritto questo libro per ricordare che la vita è pronta a supportarci quando scegliamo di affidarci all'infinita saggezza dell'universo, aprendoci alle sue infinite possibilità dove tutto può succedere. E sono felice di condividere questo viaggio con te.